L'emozione, l'emozione c'è sempre. Chi dice che non ha emozione non dice la verità. La cosa bella è provarla, questa emozione che ti dia qualcosa, che ti costruisca dentro la possibilità di fare di più e meglio. L'emozione invece di Piazza Duomo è incredibile perché per una sera noi ci sentiamo come i giocatori di calcio. Abbiamo 40.000 persone e tutti quelli che ci guardano in streaming oppure in tv. È un'emozione diversa nella quale gente che normalmente non frequenta una sala da concerto ha la possibilità di essere vicino a noi, di vedere quello che facciamo e di goderne. In piazza invece c'è un po' la responsabilità della rock star, no? C'è un abbraccio diverso della gente e siccome, secondo me, lo scopo principale di un artista è quello di arrivare alla gente, toccare le persone, lì in Piazza Duomo lo fai veramente. È proprio questo che fa magica l'esecuzione in piazza perché la musica è per tutti e deve essere così. Nella piazza naturalmente c'è un impatto diverso perché chiaramente devi suonare in un modo che sia percepibile anche dall'ultimo delle 15.000 persone di Piazza Duomo, se non di più, di Piazza Duomo o dell'Arena di Verona che è una cosa molto simile. Grazie a tutti.